Ciao, oggi voglio darti due o tre trucchettini per le storie di Instagram, se non li conosci già. Allora, quando fai un video puoi zoomare velocemente durante la registrazione, semplicemente facendo su e giù. Lo sapevi? Può esserti molto utile. Altra cosa, vuoi aggiungere della musica? Puoi farlo in maniera un po' casareccia, facendo partire sul telefono un brano, usando Spotify o un altro servizio di musica, andando poi sulle storie, la storia registrerà l'audio che stai mandando e questo potrebbe servirti per usare la musica come sottofondo. Poi, altro trucchettino, vuoi mettere una foto a un video che ha più di 24 ore? Sai che Instagram nelle storie ti fa vedere dalla libreria solo quelli degli ultimi 24 ore. È un trucchetto molto semplice, è mandare per esempio il video, la foto, a un contatto su WhatsApp o su Messenger. In quel modo il telefono lo vedrà come nuovo contenuto e quindi lo potrai mettere. Ultima cosa, se vuoi aggiungere un video più lungo di 15 secondi, come fai? Ci sono delle app su iPhone e Android, CatStories, TaglierinoStories, Instagram, delle app che tagliano il video automaticamente in video di 15 secondi e quindi quello ti può essere utile per poi ricaricare 1, 2, 3 o 4 storie. Spero che questi consigli ti siano utili e ci vediamo domani. Ciao!